Sto provando a imitare una ricetta che l'ho sentita dire e ho letta su una rivista. Non è chissà che, non mi sta venendo bene questo miocchetti alla fiorentina o una roba del genere. Credo che ancora non vanno in ebollizione, ho messo troppo olio, la noccia di burro ancora non è fusa. Proverò a fare la cosa da top in cucina. Oggi ho sbagliato, voglio far vedere lo stesso, che magari ce la posso fare. Se mi metterei un po' di, ci vorrebbe un po' di, un po' di dato giù dal pavimento, non importa, perché non è la padella adatta. Mettiamo un po' di, andrà il prezzemolo, no? Voglio provare questa ricetta che credo che la sto quasi facendo abbastanza morbida, buona, ma è troppo oliosa. Vediamo cosa succede se il piatto, poi in caso finisco di cuocere. Vedi? Troppo olioso. Ma magari, però quasi quasi un assaggio lo farei. Vediamo, mmm che buon odore però, profumo di mare, buon di mare, di campagna ecco. Perché la telecamera è storta? Però un bel impiattamento, non ha sbordato mai, non ha mai andato oltre il bordo. Ho fatto un impiattamento top da chef di gamma. Wow! Ho fatto un impiattamento, non ha mai andato oltre il bordo.